Di lui ha parlato tutta Italia, troppo giovane perché il Covid lo attaccasse con tanta forza, si diceva. Eppure Diego, 31 anni, ha rischiato di morire. Ricoverato prima al Grassi, poi l'Umberto I, infine portato in coma allo Spallanzani, a distanza di quasi tre mesi, racconta così, ai nostri microfoni, la sua terribile avventura. Tu lo sai che c'è stata una città intera che ha fatto il tifo per te, perché in qualche modo sei quello che ci ha fatto aprire gli occhi realmente sul Covid. Può succedere. Può succedere veramente. Sì, ma in realtà pure per me è stato tutto sprovvisto, perché come ho già detto, c'è io che ero veramente invincibile, l'ultima volta che ho avuto la febbre manco mai ricordo. Che ricordi del giorno in cui ti sei sentito male? I giorni prima avevo comunque dei sintomi influenzali, mi sentivo lebole e tutto quanto. Poi mi è scherzata a 40, dopo, non mi ricordo, una settimana. Quando hai realizzato che era Covid? E quando sono arrivato al Grassi ho detto perché il giorno stesso alla fine era riuscire a fare il tampone, perché poi la prima volta non ci sono riuscito, perché avevo fatto tutta la fila, tutto quanto, però non c'avevo, non mi ricordo bene, il foglio del medico impegnativa. Non ce l'avevo, quindi mai ero fatto un botto di ore di fila. Neanche se avevi la febbre non ti hanno fatto fare il tampone? No. Tanto si è detto della storia di Diego, non si è parlato però delle difficoltà incontrate nel momento più delicato per la diagnosi del Covid-19. Il primo ospedale dove sei stato? Graffi. Al Grassi. Poi in realtà non mi ricordo bene, l'ultimo ricordo di ciò che mi tagliavano i vestiti. E poi non hai più ricordi? Me l'ho sbagliato e più penso che stai ancora al Grassi, in realtà stavo all'Umberto I, ho Spallanzani proprio zero. Non te lo ricordi? Stavo per in coma, non mi ricordo nulla, Spallanzani zero proprio. Tu avevi avuto paura di non farcela? Sì, quando stavo ad andare l'ambulanza al Grassi e poi i dottori dicevano che facevo proprio fatica di respirare. Mi ricordo pure quando mi hanno messo la bombola, là ho pensato che non farcela. Infatti io mi hanno messo il messaggio all'assimente, c'è un'ambulanza. Che le hai scritto? Ho detto vabbè, qualsiasi cosa le amo, c'è un messaggio bello insomma. Sto sempre con te, qualsiasi cosa succede, sta tranquillo. Oggi Diego sta bene, ce l'ha fatta, ma questa esperienza l'ho assegnato e si rivolge ai giovani. Cosa diresti ad un ragazzo in ascolto, un ragazzo di vent'anni che guarda e dice non esiste? Facciate qualsiasi tipo di sintomo, andate a fare subito il tampone, mette una mascherina, disinfettate sempre le mani, evitiamo festini, manifestazioni non maschere, tutte queste cose qua, perché comunque il virus ci sta. Prossimo obiettivo per Diego? Recuperà, a breve voglio fare una bella partita di calcetto, pure adesso non ce la faccio, poi voglio continuare a viaggiare. Per il calcetto e i viaggi ci sarà tempo, intanto è ora di tornare nella sua casa clandestina e fra gli ultimi i clochar che Diego, dopo anni di volontariato, conosce uno a uno strada per strada, vicino agli invisibili come pochi. Bentornato Diego.